Buon pomeriggio e ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione su Telebari e Radio Bari da Barbara Cirillo. In primo piano la CGL Puglia lancia la Carta dei Diritti Universali del Lavoro, un nuovo statuto del lavoratore ma soprattutto uno strumento legislativo che vuole riunificare il mondo frastagliato dei contratti e servizio. 1300 assemblee aziendali, 450 assemblee territoriali e 200 presidi in tutte le piazze della regione. Si attrezza così la CGL Puglia per dare una nuova vita ai lavoratori con la costituzione della Carta dei Diritti Universali del Lavoro. Si tratta di un vero e proprio articolato composto di 67 articoli e che è una proposta organica che recupera un'idea che ormai si è persa nel Paese di tutela per quanto riguarda tutti i lavoratori. Per cui lo sforzo che fa la CGL è quello di riunificare il lavoro attraverso una legislazione che noi proporremo poi al Parlamento attraverso una legge di iniziativa popolare per cercare appunto di istituire nel nostro Paese un sistema di diritti valido per tutti a seconda da dove si lavora e di che tipo di lavoro si fa. Un obiettivo ambizioso certo quello della CGL che punta alla riunificazione del lavoro tramite questo strumento legislativo per non rimanere enermi davanti ad una destabilizzazione e una mortificazione del diritto del singolo preoccupanti. Al contrario dei dati emersi nell'ultimo anno a livello nazionale infatti, l'aumento dell'occupazione non corrisponde soprattutto nel mezzogiorno a un aumento di posti di lavoro. In Puglia solo un più 1% ma con 140.000 posti in meno rispetto al 2008. Ad aumentare invece in maniera esponenziale è il numero dei precari e dei lavoratori con contratto a tempo determinato. Per non parlare della cosiddetta fuga dei cervelli al nord e dell'incremento allarmante dei voucher. Noi denunciamo con forza questo dato dei voucher e della crescita esponenziale dei voucher. Si sono triplicati nel corso del 2015, siamo arrivati a circa 5 milioni di voucher. Sono 5 milioni di ore di lavoro che sono effettuati attraverso questo strumento estremamente flessibile che rende i lavoratori addirittura sconosciuti all'anagrafe. Il presidente di Confindustria Bari e Bat, Domenico De Bartolomeo, si è dimesso questa mattina dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari e Modugno e dal CDA dell'ASI SPA, società preposta alla fornitura di servizi nell'area industriale barese. Lo ha annunciato lo stesso De Bartolomeo in una nota in cui precisa che le ragioni delle dimissioni saranno illustrate alla stampa nel pomeriggio alle 15.30 nella sede dell'Associazione Industriale di Bari. Saranno presenti anche il presidente di Impresa più Impresa Paolo Bevilacqua, la presidente dell'Associazione Imprenditori di Molfetta Loredana Lezzocchè e Mariella Paparepore, vicepresidente Confindustria Bari e Bat. Una discarica abusiva a cielo aperto con probabile presenza di amianto in piena città ma anche il luogo deputato ad ospitare i ragazzi dell'ex set. Ci dice tutto Serena Russo. Le immagini che vi stiamo mostrando non hanno davvero bisogno di commenti. Siamo a due passi dai campi da calcetto a ridosso dello Staglio della Vittoria e a poche decine di metri da Largo Mohamed Pasha, il luogo individuato dall'amministrazione comunale per quello che oramai è conosciuto come il villaggio dei migranti. I moduli abitativi che ospiteranno i ragazzi dell'ex set saranno montati proprio qui, a ridosso non solo di una discarica a cielo aperto, contenente con ogni probabilità dell'amianto, ma anche di un campo Roma abusivo. La villetta occupata è privata. Noi sul posto c'eravamo già stati il 16 ottobre scorso insieme ai consiglieri del Movimento 5 Stelle. Da allora, come potete vedere, nulla è cambiato. L'unica novità, l'utilizzo che si farà della zona immediatamente adiacente che diventerà la casa, seppur temporanea, di tante persone. Mi stupisce come nelle commissioni competenti si è emerso il problema, secondo alcuni miei colleghi, di far crescere, di far sorgere un centro di accoglienza davanti al polo sportivo e poi nessuno si è reso conto che davanti al polo sportivo c'è una discarica che oggi, mi rendo conto, è ai limiti sia dal punto di vista ambientale, di rispetto quindi dell'ambiente, perché sembra addirittura esserci presenza di amianto, ma dal punto di vista della vivibilità perché c'è un insediamento abusivo rom l'ennesimo sul territorio della città di Bari. La segnalazione ai proprietari della villa occupata è partita oramai diverso tempo fa. Noi abbiamo già dato disposizione alla polizia urbana di fare degli accertamenti perché quell'area pare non essere un'area comunale rispetto alla quale naturalmente l'amministrazione non può farsi carico della polizia, quindi va fatta la diffida ai proprietari e soltanto dopo un silenzio da parte del proprietario della polizia dell'area in qualche maniera l'amministrazione comunale può adoperarsi in danno poi del privato che non tempera all'ordine imposto dall'amministrazione comunale. Massiccia adesione dei dipendenti a Amtab, lo sciopero proclamato per questa mattina ha cominciato alle 8.30 e terminato per il momento alle 12.30. Tanti bus fermi e personale non garantito nei parcheggi di scambio e questo pomeriggio si ricomincia a partire dalle 15.30. Intanto proseguono i lavori sul waterfront di San Girolamo questa mattina, il sopralluogo del sindaco. Vediamo. Due terzi delle opere previste sul primo tratto, zona terra, del waterfront di San Girolamo sono pronte. Il pavimento è stato spianato, ripulito dall'asfalto, realizzata anche la prima porzione di fogna bianca, così come la predisposizione per la nuova illuminazione. Ma soprattutto è già visibile quella che diventerà la pista ciclabile del lungomare, tre metri di ampiezza, costeggiata da alberi. Semipronte anche le sedute, quelle interne e quelle invece che affacciano sul mare. Questa mattina il sopralluogo del sindaco Antonio De Caro. Il secondo tratto lo inizieremo appena completiamo la parte a terra, quindi mancano poche decine di metri per arrivare al termine del cantiere e poi sarà implementato un ulteriore cantiere fino ad arrivare alla fine. Lo stiamo facendo per tratti, anche per abituare i residenti alla nuova viabilità, che sarà una viabilità comunque definitiva. E dal prossimo marzo cominceranno anche i lavori in acqua. Ci spiega quali gli interventi previsti l'assessore lavori pubblici Pino Galasso. Da marzo cominceranno i lavori a mare, l'impresa è già pronta, stiamo soltanto attendendo il montaggio di alcune sonde che verranno collocate in mare nei primissimi giorni di febbraio, dopodiché partirà un periodo di osservazione dei risultati di queste sonde previsto proprio dalle autorizzazioni ambientali che sono state rilasciate, un periodo di 30 giorni. A seguito di questo periodo, quindi orientativamente dai primi di marzo, avremo l'inizio della costruzione delle scogliere. E sempre questa mattina è stato sottoscritto all'Ateneo di Bari l'accordo di collaborazione tra Marina Militare e Università. A siglare il protocollo, che prevede attività di ricerca e progetti in ambito marittimo, il comandante delle scuole della Marina Militare, l'ammiraglio di squadra Salvatore Ruzzittu e il rettore Antonio Ricchio. Per l'occasione nel colonnato del Palazzo Ateneo è stato allestito anche lo stand informativo della Marina Militare. Marco Mengoni manda in tilt la città per il suo firmacopio. Ieri un bagno di folla atteso per ore davanti alle porte della Feltrinelli di Bari, chiuse anche a noi giornalisti. Il servizio. Via Melo ore 16, strada chiusa al traffico, una cornice umana sull'isolato tra Via Dante e Via Principe Amedeo, uno schieramento di forze dell'ordine consistente, polizia di Stato, carabinieri, vigili urbani e baschi verdi della Guardia di Finanza. Tutto questo per Marco Mengoni. Era atteso alla Feltrinelli di Bari per il firmacopio del suo ultimo album alle 16, ma il cantante 27enne, re delle classifiche italiane, si è fatto attendere per oltre un'ora. Ad aspettarlo fans da tutto lo stivale, in coda per un autografo o una foto, dalle 9 del mattino. Da che ora siete qui voi? Alle 11 di stamattina. Da dove venite? Da Cegli. Dalle 10 di stamattina. Venite da dove? Io da Matera e lei da Roma. Chi è che viene da Roma? Io. Cos'è il secondo firmacopio che faccio quest'anno. Lei sta accompagnando suo figlio invece? Sì, esattamente. Lei? Da dove venite? Terlizzi. Noi veniamo da Foggia. Lui è il fan più piccolo che sa tutte le canzoni di Marco Mengoni. Dalle 3. Dalle 3. Che avete fatto fino ad ora? Ad aspettare, con i piedi congelati. Ma tutto sommato il freddo non ha inibito i fans che hanno trovato il modo per riscaldarsi cantando. Perché ti voglio bene veramente. E non esiste un luogo dove non mi torni in mente. E avrei voluto averti veramente. E non sentirmi dire che non posso farci niente. Ed è proprio quello che ci è stato detto dallo staff che lo ha accompagnato. Non possiamo farci niente. La stampa non può accedere al firmacopie. Nessuna foto, neanche un secondo di ripresa. Alla faccia del diritto di cronaca. Porte chiuse alle telecamere, quindi. Ma non sarà di certo perché Marco Mengoni ha alzato un po' la cresta. Ci piace piuttosto pensare che avesse qualche ciuffo fuori posto. E il mago Forest al secolo Michele Foresta torna a Bari con il suo Motel Forest. Lo abbiamo incontrato poco prima dell'inizio del suo spettacolo. Sentite cosa ci ha detto. Un attimo che mi pettino bene perché ci tengo moltissimo. Bene, vai, vai. Anche perché sa per aprire le porte al suo Motel. Il Motel Forest, eccolo lì. Non so se lo vedete. Quella è la hall del motel più pazzo di Bari stasera. Un motel pazzo, un motel magico. E stasera farò visitare queste stanze a tema con la metafora della magia ai clienti che verranno a trovarci. Una magia un po' particolare, tutta forestiana. Ha visto? Sembravo serio, sembrava una cosa seria. Invece è un viaggio tutto di ridere, tutto di ridere, di ridere naturalmente. E le magie naturalmente sono quelle mie, quelle strampalate, anche perché quelle vere non le so fare. Forse, chissà. Ho letto in un'intervista che l'idea di Motel Forest è nata su una strada molto famosa. Sì, è una strada storia sulla Route 66, che è la strada che attraversa gli Stati Uniti. E allora io ero lì in viaggio di nozze. Oddio! Non tutti i mali vengono per nuocere, quindi perché in quel viaggio mi è venuta l'idea di questo spettacolo. Perché lì sono questi alberghi con insegne gigantesche, mentre poi le stanze sono veramente un po' minimaliste, per non dire basiche, per non dire squallide. E ho detto perché non ambientare in ogni stanza una magia, un sentimento, un peccato o una sorpresa. E ho detto che non è un po' maggiore, ma anche un po' maggiore. Come Michele Forest ha trovato nel teatro la sua casa, la sua dimensione più naturale? Beh, io arrivo da lì, io arrivo dalle pizzerie, dai cabaret. Io venivo a Bari, tu sei troppo giovane, non ti ricorderai, lui si ricorda benissimo che è anziano. Venivo alla Dolce Vita, gestita dai tevi direttori artistici, Totti e Tata, con il quale ho fatto una mitica partita al San Nicola di Bari, Totti e Tata contro il resto del mondo. Ero il secondo portiere. Mi hai visto? Non eri nata. E questo era il nostro ultimo servizio. In chiusura, come di consueto, vi ricordo i nostri siti internet telebari.it e radiobari.net e per tutte le vostre segnalazioni il nostro indirizzo di posta dedicato, info.chiocciolalsegnodizorro.it E ora vi lasciamo al meteo. Grazie per averci seguito. Ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni di Trebi Meteo. Sull'Europa, nel corso della giornata di lunedì, rimonta un campo di alta pressione sui settori occidentali e meridionali, favorendo tempo più stabile. Una perturbazione invece lambisce il nord atlantico e il freddo rimane confinato a destra, con nevicate fino in pianura e temperature che ancora rimarranno sotto zero anche durante il giorno. Il clima invece è decisamente più umido sull'Europa centro-occidentale. Per quanto riguarda l'Italia, ci attendiamo dunque una giornata in prevalenza soleggiata su gran parte delle nostre regioni, salvo un po' di nubi basse anche compatte tra Liguria e Toscana e localmente anche sulle coste della Sardegna. Fino al sud la giornata sarà in prevalenza soleggiata con solo qualche velatura in transito e dagli addensamenti un po' più consistenti soltanto sulle coste della Sardegna. Per adesso è tutto, maggiori dettagli sul sito trebimeteo.com Grazie a tutti! Grazie a tutti!